Diplomi e borse di studio, una giornata di festa per gli studenti dell'ITS che hanno concluso il percorso biennale in trasporto e logistica. Si tratta di corsi legati a un filo conduttore inscindibile con il quadrante Europa e che hanno acquisito un interesse di primissimo livello viste le grandi possibilità occupazionali che garantiscono. Si pensi solo che molti degli studenti premiati già hanno un lavoro in azienda, sono tecnici formati e possono dunque iniziare la loro occupazione senza dover tardare chissà quanto. Abbiamo preso una considerazione ulteriore da parte dei certificatori europei e ha contribuito a farci diventare il primo interporto d'Europa perché oltre ai numeri aridi di fatturato e di numeri di trasporto merci sono state considerate da parte della Commissione europea anche la formazione che viene svolta sia dal master di logistica e sia da questo istituto tecnico. Ricordo che è stato uno dei primi in Italia a partire e oggi ce lo copiano un po' tutti. Corsiamo i diplomi però a ragazzi e ragazzi che praticamente lavorano già quindi abbiamo 23 persone su 26 che si sono diplomati l'altro giorno e che hanno già un contratto di lavoro quindi questo grazie al fatto che la caratteristica fondamentale di questi corsi è che sono corsi che mettono insieme l'accademia quindi l'università le scuole e le imprese e poi è un territorio il quadrante Europa di Verona che è eccellenza in Europa. Un dato balza gli occhi più di tutti l'ITS sul territorio dal 2011 forma circa 75 persone l'anno essendo a numero chiuso e il 95% di queste trova occupazione nel settore di riferimento che sia esso il trasporto la logistica l'intermodalità. Il corso ha durata biennale per complessive 1880 ore di cui una parte di stage in azienda e l'altra parte in aula. Un equilibrio tra la teoria e la pratica fondamentale per potersi poi presentare pronti nel mondo del lavoro. E tra qualche giorno si terrà la presentazione straordinaria dei corsi rivolti a tutti i ragazzi in cerca della propria strada dopo il diploma. Per il quadrante Europa ancora numeri rilevanti.